Si chiamava Sara Sharif e aveva solo 10 anni di età, purtroppo è stata brutalmente ammassata, da chi vi starete chiedendo? Ebbene dal padre che si chiama Ulfan Sharif di 42 anni di età e pensate che anche lo zio avrebbe contribuito a provocare la morte della piccola per l'appunto Sara. Il zio si chiama invece Faisal Malik di 28 anni di età. Le parole che il padre ha lasciato su un bigliettino sono veramente strazianti, infatti il padre avrebbe scritto l'amo ma l'ho picchiata troppo ed è morta. 10 anni di età Sara, così si chiamava ripeto, era una bambina, trovata priva di vita ad agosto del 2023 nella casa Working in Inghilterra. Il corpo della bambina nata nel Berkshire dalla mamma delle polacche e papà pakistano mostrava segni evidenti di maltrattamento, violenza devastante nei certi confronti e nonostante il corpo fosse stata taggiata sul letto a casterlo, era come se si volesse nascondere l'oscuro infanticidio. L'autopsia svolta delle dueità competenti e le dichiarazioni successive di William Emily Jones, che è un procuratore, hanno descritto una situazione veramente glaciale, terribile. Per molte settimane infatti la bimba è stata legata ad un termosifone, ha subito le anghenie di un familiare e l'ha lasciato evidenti segni di morse su gambe ma anche su braccio, il cranio aveva danni ingenti, lesioni piuttosto evidenti. Ma c'è stata anche l'ostione da ferro da stiro su una delle sue chiappe, su uno dei suoi glutei. Il caso era già noto ai servizi sociali e qualcuno già sapeva quello che accadeva, però Roberta ha avuto la meglio su tutto e su tutti. Va bene? Una vicenda insomma che ha dell'incredibile, ovviamente le tinte sono sempre più oscure, sempre più tenebrose e si spera che in futuro si faccia ancora più chiuse su un caso che ha destato veramente l'attenzione dei media, non soltanto locali ma anche internazionali. Sarah Sharif, riposi in pace, Amen.